Con Fartigenato Sardegna mette in guardia i cittadini sugli installatori abusivi di climatizzatori. Gli operatori non autorizzati spiegano non solo rischiano di danneggiare l'ambiente ma possono anche esporre a severe sanzioni amministrative. L'associazione evidenzia che circa il 30 per cento del mercato dei climatizzatori è controllato da operatori non certificati che violano le normative e possono causare gravi conseguenze legali con multe che partono da 5.000 euro. Per contrastare questa tendenza, Con Fartigenato ricorda che nell'isola operano oltre 1.140 imprese specializzate in impiantistica, tutte regolarmente certificate e pronte a offrire un servizio a regola d'arte. Giuseppe Tatti, delegato dell'associazione per gli impianti, sottolinea l'importanza di affidarsi solo a tecnici certificati per garantire efficienza e qualità nell'installazione. Tutti i climatizzatori contengono effegas, gas inquinanti, talvolta infiammabili, responsabili in quota a parte dell'effetto serra. Per questo devono essere trattati da personale esperto e qualificato. Un'installazione affidata a personale non certificato comporta il rischio di importanti sanzioni che alla fine coinvolgeranno anche il cliente. Noi di Con Fartigenato raccomandiamo che in programma all'installazione del climatizzatore di rivolgersi ad aziende iscritte e certificate. Un professionista sarà in grado di consigliere l'utente finale nel prodotto più adatto, eseguire un'installazione a norma di legge ed assolvere tutti i passaggi burocratici che consentono poi l'attivazione d'accesso alla garanzia del prodotto, evitando problemi derivanti da una non corretta installazione e ad accedere ugualmente agli incentivi e detrazioni fiscali previste dalla norma dello Stato.